De Malesani, come a dire, che gol? E ha ragione. Con la mano sta facendo veramente un neuro-gol. Complimenti a Ghezzal. Che tocco morbido. Grande, grande gol. Ma ha lasciato bocca aperta. Tutti si aspettavamo il tisce da un rimpallo. Devezze nella copre. Ah, grande gol. Veramente superlativo gol di Ghezzal. E qui Devezze ha mancato l'appoggio. Ghezzal con freddezza, visto Gilles leggermente fuori dai pali. E l'ha sorpreso con un grandissimo gol. Comunque è un gol figlio di un ottimo secondo tempo del Siena. E credo che sia ampiamente meritato.